Buonasera a tutti. Nelle scorse puntate vi ho parlato di rimedi naturali che si possono utilizzare nel cambio di stagione per aumentare la performance sia fisica che mentale. Visto che oramai siamo alla fine di maggio e le scuole stanno finendo, diciamo che possiamo pensare, soffermarci a parlare di rimedi naturali che possono essere utilizzati per aumentare la nostra concentrazione e quindi favorire il nostro sprint finale di fine anno, oppure per quegli studenti che devono poi impegnarsi ancora un po' e preparare l'esame di maturità o gli ultimi esami universitari. Questi rimedi naturali di cui sto parlando sono le essenze floreali del dottor Bacca. Esistono dei fiori di Bacca che ci favoriscono la concentrazione e l'attenzione. Per esempio climatis. Climatis è il nome che il dottor Bacca ha dato alla pianta della climatide bianca. Climatide bianca ne esistono di diversi tipi. È una pianta rampicante, fa delle fioriture bellissime e fiorisce tantissimo. praticamente ha una fioritura che va da febbraio ad aprile. È una pianta rampicante, sia rampica sia sui muri che sui tronchi degli altri alberi. L'essenza floreale di questa pianta è molto utile proprio per favorire la concentrazione in quelle persone che sono un po' distratte, sia che la distrazione sia diciamo un segno particolare della persona oppure che sia proprio dauto a stanchezza del periodo. Quindi il ragazzo, lo studente che non riesce a restare concentrato perché vaga coi suoi pensieri, coi propri sogni, è importante che metta la testa sui libri in questo periodo può utilizzare l'essenza floreale di climatis. Un'altra essenza floreale molto utilizzata in questo periodo per favorire la concentrazione e soprattutto la resistenza allo sforzo di concentrazione è l'essenza di elma. Elma non è altro che il nome floreale che è stato dato all'olmo campestre. L'olmo praticamente è una pianta che è abbastanza rara, in Italia la troviamo quasi esclusivamente come ornamento in parchi e giardini. Elma può raggiungere anche i 40 metri di altezza e ha la caratteristica di essere un'essenza floreale che favorisce la concentrazione, soprattutto in quelle persone che già si impegnano molto e possono avere qualche defiance proprio per il troppo impegno e la stanchezza, quindi ne favorisce ulteriormente la resistenza allo sforzo. Ricordate che le essenze floreali vi danno un aiuto ma non fanno i compiti per voi. Arrivederci e buona serata!